Segui! Seguilo! Seguilo intanto che va! Vai! Vai! Vieni! Bravo giù! Metti di pressione! Metti di pressione! Che così sbaglia! Pensi di avere dietro il Mago Cargamello in zona! Vedi? Vedi? Figgio dato che pressione ti mette! Io ti ho detto di andare giù di là! No! Arrangiti! Devi andare alto per girare lì! Devi andare alto! Vedi? Come fa lui? Vai su alto e poi la gira indietro! Devi andare su un pelino se no non ce lo fai! Non allargare! Ce l'ha fatta per lo spam! Vai! Dai! Rinuncio! Ha rinunciato! Sì! Questo proprio! Fai sta benedetta zona! Dai! Dai facciamo tre minuti! Ho già capito che oggi facciamo 20 km! Bene qua! Bene qua! Dai! Finisci là! Finisci là! Giù! Piano! 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 Ho visto eh! Via! Non aspettare troppo eh! via 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 e sta aspettando lui è in giù è il navigatore che ha sbagliato quando esci devi tornare di là alzala alzala un casino tu la alzi un casino quando arrivi giù arrivi giù 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 tu puoi andare fino a lì però devi alzare non devi farla più alzati la non ti ho messo il limite quindi fa l'altra vedi devi andare lì e girare se no non giri più via 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 è possibile via 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 vai su alto vedi? se alzi un po' di più ci passi basta guarda che assi ti viene addosso 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 ma perché? Zona della vipera, tutte così lui le fa, tutte consorte così da fare una fatica della miseria E' tutto questo, che davanti ti porta fuori dall'alto Ostia, minchia che rischio Vedi che è più giusto scenderti lì lui vuol essere più stretto, e che cavolo, arrivo Alto, alto, così, un pelo più alto, un pelino di più e poi giri Oh mi sembra di essere giusto Vai via eh, non fermarti Dai, dagli Oh, mi sembra di essere giusto Come ci sono giusto Fino, non fermarti Fino, non fermarti Fino, non fermarti Ehi lì lì La proposta è un'erba vai pesi anche Luigi ha lasciato a casa anche Luigi ha lasciato a casa i pesi oggi